Ciao! In questo video vi volevo parlare dello struccante occhi dell'Idea questo struccante occhi lenitivo della linea Fisalis e Fiori d'arancio questi sono 200 ml a 12 mesi di Pau e non mi ricordo precisamente se l'ho pagato 6,95 o 7,95 non c'è l'inci perché l'inci è sulla scatolina esterna che io non ho più è uno struccante occhi bio e c'è scritto molto l'uso da usare con un dischetto di cotone ripetendo il gesto qualche volta per il trucco waterproof è uno struccante molto liquido, penso che si sente e devo dire che a me rimuove tutto questo non utilizzo particolari prodotti waterproof, mai mascara forse ho qualche matita waterproof però quello che utilizzo io a me porta via veramente tutto è uno struccante occhi abbastanza oleoso è una via di mezzo tra un bifasico e un olio nel senso che non è tanto oleoso quanto struccarsi con un olio ma è leggermente più oleoso di un bifasico ha l'apertura così ed esce da questo buchino qui il prodotto e ora vi faccio vedere con delle matite waterproof quello che rimuove non vi so dire se il mascara lo rimuove del tutto da solo perché l'ho già detto in altri video per abitudine la sera comunque io sciolgo sempre il mascara tra le dita con l'acqua ma ci so veramente pochissimo e poi passo il dischetto è un'abitudine che ho sempre avuto quindi lo faccio comunque sempre ogni volta che mi vado a struccare ho preso delle matite che sono veramente waterproof questa è dell'astra di questa linea ne ho diverse di matite waterproof ed è questa qui poi ho preso questa di Kiko la Skinny Fit che non è waterproof però devo dire che a me resiste veramente tutto il giorno e poi ho preso un Long Lasting di Kiko che è un altro di quei prodotti che io comunque faccio più fatica a rimuovere nel senso che sono alcuni dei prodotti che comunque mi durano, mi resistono di più quindi diciamo più difficili da struccare ora vado a mettere alcune gocce sul dischetto e come vedete la consistenza è proprio trasparente eccolo qui e vado semplicemente ad appoggiare il dischetto qui c'è scritto di fare più passate per un prodotto waterproof e come vedete questo porta via comunque tutto ecco qui ecco e infatti è tutto sul dischetto io avvicino ma non c'è niente l'unica cosa che comunque lascia eccola la pelle non so se si vede comunque l'oleosità del prodotto si sente sulla pelle per esempio questa la lascia abbastanza unta diciamo però io dopo comunque vado a passare il passo il detergente sul viso e comunque strofino anche perché gli occhi naturalmente uso un detergente delicato perché se no è la fine però devo dire che mi piace veramente tanto sono due mesi che lo uso è uno struccante comunque che mi rimuove tutto che non mi dà problemi perché non mi brucia assolutamente non mi fa arrossare gli occhi quindi sicuramente è un prodotto che vi consiglio naturalmente ve lo consiglio se non vi dà fastidio la sensazione proprio oleosa sulla pelle perché altrimenti non è sicuramente un prodotto che fa per voi ecco era un video molto veloce perché volevo parlarvi semplicemente di questo qui mi ci sto trovando veramente bene sono all'incirca a metà quindi lo trovo veramente un ottimo prodotto fatemi sapere se voi l'avete provato e ci vediamo al prossimo video ciao